Il giovane vittoriese Giuseppe Panagia vince una doppia medaglia oro e bronzo alla prima edizione dell'Italia Union Open di Karate, abbinata al 14esimo Open di Toscana e al quarto trofeo Nelson Mandela di Follonica. Svoltasi nella città di Grosseto il 28 e 29 marzo, dove si sono dati battaglia a circa 1200 atleti provenienti da tutta Italia e da alcune nazioni estere, tra cui Austria, Olanda, Danimarca e Svizzera. L'atleta vittoriese, allenato dal maestro Santo Torre, si è imposto nella sua specialità, il kata individuale, nella categoria juniors e disputando una gara esemplare, senza sbavature, mantenendo alta la concentrazione durante tutte le numerose performance eseguite sui tatami, battendo tutti gli avversari con punteggi altissimi e vincendo la finale contro il lombardo Luca Brescia con un secco 5-0, conquistando la medaglia d'oro. Uno stile perfetto, quello del forte vittoriese, che ha saputo catturare il favore dei giudici e degli appassionati, confermandosi così tra i migliori interpreti della specialità. Al termine della competizione, grande soddisfazione è stata espressa dal maestro Santo Torre, allenatore del CS Karate Sokotan di Vittoria e dai tecnici della Nazionale presenti alla manifestazione.